Priscila ASMR Ciao tesoro mio Come stai? Ho capito? Beh l'importante è che insomma tu stia abbastanza bene e sono molto felice Allora, sei pronta per questa pulizia rilassantissima? Sì beh ho deciso in realtà non solo di fare una piccolissima pulizia ma di applicare anche una di quelle black mask che ti piacciono tanto per purificare tutta la pelle Bene, allora non devi fare altro che sederti pure lì e cominciare già da adesso a rilassarti Che ti faccio un po' di coccole oggi Allora, 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 allora Vedo che sei già strugata Mi hai tolto gran parte dell'impegno No, scherzo Però voglio comunque passarti un pochino di tonico, ok? Per togliere gli ultimissimi dei segni di trucco Non si sa mai Ce ne può sempre stare qualcuno che ci sfugge Allora, vado a prendere Una pochetta del tonico Questo tonico è una delle mie marche preferite Non solo di prodotti naturali Ma anche di prodotti per la pulizia del viso Che sto parlando Della Fitline Skin C'è il tonico C'è il latte rifergente Insomma, siccome ti sei già struccata Io andrei direttamente al tonico Questo va bene per tutti i tipi di pelle Perché ha un principio Che viene chiamato GMP E ce l'hanno pochissimi prodotti sul mercato Ma è un principio che fa sì Che i prodotti possono essere utilizzati Da qualsiasi persona Allora e poi ovviamente dobbiamo andare a prendere il nostro dischetto di cotone allora qui sul naso sulle guacce sul mento sulla fronte sul collo sulle guacce sulle guacce adesso andiamo ad applicare questa maschera di cui ci stiamo parlando è una black mask della Cosmi maschera peel off leva tutti i punti neri ed è composta da collagene, vitamina C e acido ialuronico ne andiamo ad applicare uno strato sottilissimo ed omogeneo sulle nostre parti interessate e in questo caso sarà la T quindi mento, naso e fronte ecco qui ne metto un po' qua ecco qui ne metto un po' qua ecco qui ne metto un po' qua questa ti leva tutti i punti neri è formibili si un po' troppo però ti leva veramente tutto tesoro te lo giuro allora dopo ho deciso ovviamente dopo averti pulita per bene ho deciso di andarti ad applicare alla fine appunto questa crema della Yves Rocher che mi è piaciuta tantissimo ed è della linea Seppo Vegetal che è una linea per pelle miste e grasse all'interno di Yves Rocher e andiamo a riequilibrare la pelle a restringere i pori dilatati quindi secondo me è anche ottima come crema finale per un trattamento del genere dove ti faccio sentire il profumo perché è veramente delizioso molto 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 allora andiamo a rimuovere questa maschera prendiamo un altro dischetto di cotone poi prendiamo ho preso questa tazza dove ho messo dell'acqua tiepida un altro E' un punto di sé dell'acqua tiepida, quindi andiamo ad immergere il nostro dischetto di cotone, così, e andiamo a rimuovere la tua maschera nera e cominciarei subito a sentire una pelle molto, molto, molto più pulita, molto più fresca. Eccoci qua. Ok. Questi li buttiamo. Con uno pulito ti vado a ripassare per togliere un po' di acqua. Si è rimasta un po' bagnata, quindi andiamo a tamponare lentamente, piano piano. Ok. Adesso è l'ora della nostra cremina. Cremina. Ok. 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 Marcella. Un po'. Ok. Ok. Urguida. Ok. 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 è buonissimo sa tipo un pelmo troppo buono allora ecco qui l'andiamo a mettere su tutto il viso così sul mento sul naso sulle guance sul lavrote sul colalo così hai visto si asciuga subito tra l'altro e ti rimane questo odore anche per giorni ovviamente questa crema va messa mattina e sera prima di truccarci e dopo esserci struccate quindi io ti consiglio se non ce l'hai già a casa ti consiglio di comprarla si mi sto sciacquando un attimo le mani ok tesoro il trattamento è finito come ti dicevo è molto molto veloce ma anche molto molto efficace soprattutto la maschera per i punti neri è fantastica tu sai tu sai che vuoi tornare da me ogni volta che vuoi io sono qui e sarò contenta di rilassarti un po' va bene ciao tesoro sì sono contenta che ti è piaciuto ti è rilassato anche bene allora ci vediamo ok ciao 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 ciao